Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori in questo video parliamo sia di Albano che di Romina Power e sveliamo due belle notizie che non mancheranno di appassionare i tanti fan della splendida coppia e prima di iniziare vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo e ste video tambien ne sta tradusito all'espagnol iniziamo con la notizia riguardante Albano e diciamo che dopo una non eccezionale conduzione alla notte della Taranta Albano torna in televisione lo farà in un programma esclusivo lo farà in una veste inedita e abbiamo conferma e abbiamo la conferma dalla diretta interessata ovvero Millicarlucci Albano dopo un lungo corteggiamento accettato di diventare concorrente di Ballando con le stelle Albano quindi torna in una trasmissione di Millicarlucci dopo aver partecipato al cantante mascherato e per quanto riguarda Romina le notizie riguardanti l'ex moglie di Albano mi sono state richieste a furor di popolo diciamo che Romina Power è reduce da un viaggio sul Monte Rosa e ha postato più volte foto in cui si prende cura dei suoi meravigliosi cagnolini e prima di passare alla traduzione in spagnolo aspetto un vostro commento su questa bellissima foto Romina Power ci riscalda il cuore con il suo amore per gli animali andiamo a tradurre questo video anche in spagnolo a beneficio di coloro che mi seguono dalla Spagna e dai meravigliosi paesi latini diciamo che Albano vuelve alla televisione mentre Romina Power si dedica a susperros grazie a tutti coloro che mi seguono dai paesi latini amici di youtube grazie per l'attenzione aspetto il vostro commento e vi ricordo che a 700 like pubblicherò immediatamente un nuovo video ciao a tutti